Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, si trova ancora in coma farmacologico il 64enne Aretino, pestato a sangue in spiaggia a Livorno con un amico di 52 anni, lui però sta meglio ed è stato già dimesso dall'ospedale della Versilia. Il quadro clinico della Aretino resta ancora particolarmente critico e i sanitari non hanno ancora sciolto la prognosi. Due amici lo scorso lunedì 12 agosto erano stati appunto aggrediti e pestati a sangue e poi derubati di uno zainetto e della tenda per la spiaggia. La squadra mobile della Versilia è adesso al lavoro per riuscire a risalire all'identità dell'aggressore. Siamo nel pieno del primo weekend di controesodo, questa del resto era appunto la settimana del ferragosto. Questa mattina c'è stato un incidente lungo il tratto Aretino dell'autosole, per fortuna non con conseguenze gravi per gli occupanti delle quattro auto coinvolte, ma di fatto appunto lo scontro avvenuto tra Monte San Zavino e Valdarno in direzione nord ha comunque causato dei chilometri di coda. La situazione si è poi risolta intorno alle 11. E un altro allarme di questa estate a Aretino è stata la febbre Deng, un caso c'è stato, lo ricorderete, nel Cortonese. La situazione per la signora adesso è per fortuna in via di risoluzione, ma noi ci siamo fatti raccontare dal reparto di malattie infettive quali sono i sintomi da tenere sotto controllo e soprattutto c'è un appello a vaccinarsi nel caso in cui si debba appunto affrontare un viaggio in un paese estero esposto proprio a questo tipo di virus. Quali sono i sintomi, soprattutto se si rientra da un viaggio all'estero, da tenere sotto controllo? Allora, diciamo che la febbre Deng, appunto come diceva prima, può essere frequente al rientro da un viaggio all'estero. I sintomi possono essere aspecifici, consideriamo che in molti casi risulta sintomatica, altrimenti possiamo avere febbre, dolore alle ossa, un rush che talvolta può essere molto sfumato, un dolore retroorbitario, quindi dietro gli occhi. Quindi chiaramente il segno principale da tenere sotto controllo è il fatto che la febbre ha rientro da paesi tropicali o subtropicali, dove la Deng è molto molto diffusa, soprattutto da paesi dell'America Latina, ma anche dell'Asia. Chiaramente la Deng risulta essere un problema per il paziente che rientra, ma risulta essere anche un problema di sanità pubblica, in quanto alle nostre latitudini esiste il vettore della Deng, perché la Deng si trasmette non da persona a persona, ma tramite punture di zanzara. La zanzara che più frequentemente, che più efficacemente determina la diffusione della Deng è la Edes Egipti, che non è alle nostre latitudini, ma abbiamo noi un vettore che può trasmetterla, che è la zanzara tigre. E quindi chiaramente è molto importante tenere sotto controllo i casi Deng, e riconoscerli a rientro da paesi tropicali, proprio per effettuare una sorveglianza e una prevenzione della diffusione con bonifiche ambientali nelle zone dove la persona ha soggiornato. Qual è il decorso quando si contrae questo virus e quali sono anche i pericoli, non solo nell'immediato, ovviamente se fosse una forma più aggressiva o se ci fossero magari patologie pregresse, ma anche nel futuro? Allora, diciamo che il problema principale risulta soprattutto nelle reinfezioni, quando si possono sviluppare delle manifestazioni emorragiche con una mortalità comunque bassa, ma che esiste. Pertanto diciamo che si consiglia, visto che è disponibile da quest'anno un vaccino, a viaggiatori internazionali, soprattutto colori che vanno a soggiornare o a risorgiornare in zone endemiche, di poter accedere agli uffici di vaccinazione internazionale proprio per poter effettuare eventualmente una vaccinazione che è sicura, un vaccino a virus vivo attenuato o ricombinante, che si fa in due dosi e che richiede un copagamento da parte del cittadino, ma che può essere fortemente indicato in alcune categorie di soggetti. Come percezione può essere diciamo allineata alla malaria e quindi comunque bisogna avere tra virgolette la stessa paura e vaccinarsi se si viaggia? Sicuramente se si viaggia è bene proteggersi, sì sicuramente, è una mortalità diversa però è bene proteggersi. Ancora a cronaca tra i reati di cui si sarebbe reso responsabile c'è anche quello di aver favorito l'immigrazione clandestina. Secondo le accuse l'uomo, un 33enne afgano, organizzava passaggi verso la meta europea a fronte appunto di una somma di denaro. Inoltre tra gli altri capi di imputazione ci sono anche evasione fiscale e appropriazione in debita. L'uomo era un ricercato, c'era nei suoi confronti un mandato d'arresto europeo ed è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Cortona. Si chiama Nala ed è una cagnolona di grossa taglia salvata nella giornata di ieri dalla polizia di Stato di Arezzo mentre impaurita e confusa correva lungo l'autosole. è stata avvistata al chilometro 322 in corsia sud con il rischio ovviamente di essere travolta e di essere insomma su malgrado anche causa di un incidente. I poliziotti della sottosezione di Battifolle dopo averla individuata sono riusciti a fermarla evitando pericoli alla circolazione con una sorta di safety car. Hanno quindi messo in sicurezza l'animale e tramite la medaglietta attaccata al collare e è stato rintracciato il suo proprietario. La cagnolona dunque è tornata a casa sana e salva. È arrivata nel pomeriggio di oggi così come gli esperti avevano annunciato la pioggia un po' a macchia di leopardo anche nel territorio aretino. Per il momento per fortuna non ci sono danni. In alcune zone ci sono stati anche dei piccoli temporali ma la giornata più critica è quella di domani tanto che la sala regionale di protezione civile ha emesso un'allerta gialla appunto per tutta la giornata del 18 di agosto. Ci sono appunto c'è il pericolo di temporali di forte intensità proprio su tutto il territorio regionale. È davvero importante l'allarme lanciato dal NURSIND della Toscana se non corriamo ai ripari, dicono sotto il profilo delle assunzioni in sanità alcuni servizi sono davvero in pericolo. Un agosto particolarmente difficile. Quello che si sta vivendo in molti ospedali della nostra regione a lanciare l'allarme è il segretario regionale del NURSIND Giampaolo Giannoni. Il problema principale riguarda la carenza di personale che finisce per mettere in crisi da una parte i sanitari e dall'altro la qualità dell'assistenza erogata alla cittadinanza. In questo quadro spiega Giannoni la grande assente alla regione che non ha mai dato seguito alle nostre richieste sulle assunzioni, sull'adeguamento delle tariffe per le cosiddette produttività aggiuntive, sulla prescrizione infermieristica e sul 118. Silenzio su tutta la linea con il personale infermieristico che è comprensibilmente sempre più stanco, demotivato e arrabbiato. Siamo in stato di agitazione ad Arezzo. Ad esempio è stato proclamato quasi un mese fa e siamo molto preoccupati. Se le cose dovessero rimanere così, il rischio è che tanti servizi dopo l'estate non possano riaprire. In particolare nella Retino lo stato di agitazione è dovuto a carenze di personale alle quali si vanno ad aggiungere spostamenti e disagi per i sanitari a causa del caldo eccessivo all'interno dei reparti degli ospedali del Casentino e della Valtiberina. È la numero 81, l'edizione del Palio Marinaro che ci siamo lasciati alle spalle. Un'edizione che è stata minacciata dal maltempo e dai continui blackout che hanno appunto interessato la zona non solo di Porto Santo Stefano ma anche e soprattutto di Porto Ercole. Peraltro un disagio ancora non risolto. Enel ha messo a disposizione dei generatori ma i guasti appunto non sono ancora stati risolti. Durante la diretta televisiva del Palio Marinaro è stato ricordato anche l'importante sforzo della nostra TV proprio per il bene di questa manifestazione. Vediamo. Come direbbe Guido Meda adesso, la fortezza c'è, la fortezza c'è, la fortezza c'è, la fortezza c'è. Attenzione, potrebbero dire non ci prendono più, non ci prendono più, ha vinto la fortezza, ha vinto la fortezza. La straordinaria voce di Paolo Mastracca ha segnato la vittoria del Rione Fortezza all'81esimo Palio Marinaro dell'Argentario, un Ferragosto che aveva tenuto tutti con il fiato sospeso per via dei continui blackout. Al momento i guasti non sono risolti ma Enel ha provveduto con dei generatori. Sotto il profilo della gara è stato un testa a testa tra Fortezza e Valle, entrambi dati per favoriti più indietro Croce e Pilarella. La fortezza è in testa, la fortezza è in testa, di poco, di poco ma ha aumentato il vantaggio. Per volontà dell'entepaglio e di chi era la conduzione della diretta televisiva, sono state ricordate le figure che per prime si sono accorte della bellezza di questa manifestazione e l'hanno portata all'attenzione del grande pubblico attraverso il piccolo schermo televisivo, Nedo Settimelli ed Edoardo Carrai. Una carezza per la nostra redazione che non dimenticheremo. È stato un giorno nero però per tutto l'Argentario, i continui blackout hanno rovinato un giorno di festa per i molti turisti, la manifestazione per fortuna si è potuta tenere senza intoppi. Come scrive il collega Vittorio Patanè dalle colonne di Maremma Oggi, lui sì che di pali ne ha raccontati, il palio è stato un raggio di sole in un giovedì nero. Adesso c'è l'ipotesi ticket di ingresso per il giorno di ferragosto, proprio per evitare il sovraccarico che per i tanti turisti presenti potrebbe essere stato alla base dei blackout, ma questa è un'altra storia. Intanto il Rione Fortezza si è goduto la vittoria e la festa, una festa per tutta la costa d'Argento che ogni 15 agosto vive il suo giorno più magico. Adesso invece parliamo dei mezzi di comunicazione, arrivata un'ultima chicca al Mumec di Arezzo, visitato in questi giorni ci dicono da tanti turisti stranieri. E' questo grammofono l'ultimo ingresso in casa a Mumec, il museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo che si trova in via Ricasoli. Diciamo così, acquisto che è stato fatto dal sottoscritto, come del resto, tutto il resto dei materiali, derivato dalla fiera antiquaria, siccome io conosco tutti in fiera antiquaria perché lo fa da per 50 anni, mi portano durante ogni fiera, prima di ogni fiera mi telefonano almeno 10-15 persone, espositori, che chi c'ha una cosa, che un'altra, questo qui ha portato questo pezzo, diciamo così, ma erano uno scatolone e tutti i pezzi staccati, la tromba per conto suo, quell'altro, cioè era un po' un rottame proprio, mi ha detto, ah sai l'ho preso una villa, questa cosa qui viene dalla Francia, mi ha spiegato tutta la storia, quindi per me è importante perché faccio la scheda anche, no? E quindi la provenienza, quando è stato preso, se è di importazione, oppure invece questo è stato comprato a Lione, portato in Italia dopo che la persona, la famiglia è tornata da Lione e è tornata in Italia, c'erano persone che avevano capacità anche economiche, c'erano questa villa e quindi all'ultimo è andato in soffitta, smontato perché si era rotto. la macchina perché non funzionava, come al solito le cose che si demoliscono automaticamente, quindi prima di buttarlo via l'hanno portato in fiera e quindi l'ho visto, io per lì ho detto, ma insomma è un impegno, anche perché era tutto a pezzi veramente, poi ho fatto un'idea così, ci siamo trovati d'accordo, insomma e l'ho comprato. Ecco, questo a quali anni risale? Questo risale a 1905-1910, è una produzione francese, che è la Patè, di grande ditta, diciamo così, di riproduzioni sia acustiche che anche cinematografiche, perché la Patè poi ha fatto il cinema all'epoca dei Lumière praticamente, e che dopo di questo si è specializzata anche su queste, questo è un giubox, perché va a gettone, di questa epoca, dei primi del Novecento, che serviva per i locali pubblici e quindi si chiama, il modello è Salon proprio perché indicava che veniva utilizzato in eibar e quindi c'era un uomo addetto per l'uso di questa cosa, qui c'era la memoria, diciamo così, di dieci dischi, uno diverso da quell'altro, come musica che potevano essere richiesti a quel momento, chi arrivava diceva voglio il numero 5, allora questo addetto apriva quella chiave, che è questa, apriva con la chiave, metteva il numero 5, lo metteva su, caricava e faceva, dopo che la persona interessata aveva messo il gettone, faceva l'ascolto di questo disco che era il numero 5. Un anno decisamente particolare, il 2024 per il museo all'insegna proprio della telecomunicazione, per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, l'inventore della radio, e i 100 anni dalla radiodiffusione in Italia ai 70 anni della televisione. Siamo in estate, i turisti stanno visitando il museo? Sì, sì, devo dire che come curiosità poi facciamo sentire questo, anche il Carillon, che magari ne abbiamo avuto altre occasioni, che è qualche mese che qua, però ecco questa qui come ultima cosa, tutti rimangono meravigliati, anche perché è un disco che non si conosce, perché è un disco che va quasi a 100 giri, anziché ai 78, quelli classici di quell'epoca, è inciso dall'interno verso l'esterno, quindi c'è tutta un'altra cosa, e quindi questo fa un elemento storico molto particolare, che in un museo come questo, della comunicazione, dei mezzi di comunicazione, è proprio, non dico indispensabile, ma è necessario sicuramente. Il prossimo appuntamento sarà con l'iniziativa Play Mume, che è un vero e proprio gioco dell'OCA, diffuso in tutto il museo il 26 settembre, in aggiunta il 28, un evento finale dedicato ai più piccoli. È scoppiato un caso sulle nuove maglie dell'Arezzo Calcio, che sono state presentate proprio il giorno di Ferragosto. La prima maglia che riporta, tra l'altro in maniera importante, l'immagine della Madonna del Conforto, è stata fortemente criticata, ma quello che ha fatto sobbalzare, in questo caso a distanza, perché non si trova ad Arezzo il Vescovo, Andrea Migliavacca, è stata l'immagine di una modella con la seconda maglia, quella di colore bianco, sulle gradinate del Duomo. Un'immagine appunto non gradita dal Vescovo, che con una telefonata informale ha chiesto e ottenuto appunto che le immagini venissero rimosse. Parlando però in questo caso di calcio giocato, al Comunale nelle prossime ore arriva Lascoli per il secondo turno di Coppa Italia. Secondo turno di Coppa Italia, dove ci vede per la prima volta in casa, in una partita ufficiale, quindi già questo la dice lunga su quella che è la motivazione con cui vogliamo scendere in campo e come abbiamo preparato la partita. È chiaro che la prima, anche se di Coppa Italia, fa sempre un certo effetto e sappiamo il motivo, il seguito che abbiamo, già dimostrato in queste pochissime partite, anche di amichevoli. Poi c'è l'aspetto puramente tecnico, tattico della posta in palio, dove non ci siamo mai nascosti al fronte di cominciare la stagione in un certo modo, quindi c'è l'intenzione di dare continuità a quella che è stata una buona prestazione su un campo difficile come quello di Pesaro, ma dove domani chiaramente sarà una partita ben diversa sotto tanti aspetti, considerando anche un avversario, un avversario importante, quindi non vediamo l'ora di confrontarci per cercare di dare continuità a quello che abbiamo cominciato domenica della trasferta di Pesaro. È importante, è importante il passaggio del turno, perché se consideriamo al di là di chi incontreremo, poi quando arriverà a novembre il turno successivo, siamo agli ottavi, potremmo essere agli ottavi, quindi sappiamo la formula e abbiamo vissuto l'anno scorso a Rimini anche la capacità di andare avanti in questa competizione, ma ripeto, oggi è giusto concentrarsi sulla partita di domani che ha tante incognite. Allora, per quanto riguarda la caratteristica che mi ha colpito di più di questa squadra, senza andare in un'area ben specifica, ma questo, ho sempre detto, è dovuto al fatto di stare insieme da tanto tempo e di aver, secondo me, inserito quegli elementi adatti che si allineano ad un gruppo già consolidato e quella capacità molto veloce, direi, di comprendere determinate cose, di interpretare le gare, di mettere dentro contenuti nuovi da un punto di vista tattico. Poi sotto l'aspetto dell'agonismo, della motivazione, della mentalità, ho trovato già un gruppo ben consolidato, molto coeso, che si aiuta e quindi direi che l'aspetto di, con il tempo a disposizione, di recepire così velocemente quelle che sono state delle richieste, mi ha sorpreso. Siamo qui nelle scelte, anche del sottoscritto, di cercare di fare un campionato competitivo e prima quando parlavo di alcune squadre non erano citate tanto per, la storia, ripeto, insegna che poi determinati budget, rose, poi alla fine del campionato dimostrano che ci sono tre, le prime tre, più io inserisco anche la quarta, che fanno un certo tipo di campionato e molto spesso corrispondono a quelli che sono stati investimenti e anche la profondità della rosa. Poi tra il quinto e il decimo posto un altro dato molto tangibile è che il confine è sottile. Quindi l'Arezzo, secondo me, deve partire dal presupposto che l'anno scorso ha fatto ottavo, che comunque sta cercando di migliorare, ha riportato giocatori importanti che non era scontato, mi riferisco a Renzi, mi riferisco a Coccia e sta cercando di integrare per migliorare, migliorare quella posizione. Poi il calcio è bello e spietato perché non è una ricetta matematica e allora prima parlavo della Westabia, parlavo del Mantova, parlavo dell'Ecco che arriva inaspettatamente alla promozione dove tutti devono avere il diritto di sognare. Sogniamo anche noi, sogniamo anche noi dietro le quinte, sogniamo anche noi ogni giorno, è bello di questo lavoro. Però allo stesso tempo, ripeto, mi concentro su quelle che sono delle cose che ho ereditato, un grande gruppo che si conosce, un gruppo che ha la capacità, già sta avendo la capacità di cambiare un po' pelle, di esprimere un buon calcio e domani mi aspetto di dare continuità in questo senso. Dove arriveremo, secondo me, ripeto, è molto prematuro, sia per l'Arezzo che per tante compagini. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e vi lascio come ogni sera d'agosto ad una replica della nostra trasmissione Fattore di storie di donne realizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Arezzo, pronto donna. Grazie per l'ascolto e buona visione. Grazie per l'ascolto e buona visione.